Fisicamente sto recuperando la condizione, sono stato fermo tanto, però adesso mi sento molto molto meglio e le partite giocate mi hanno aiutato tanto a livello fisico e allenamenti. Per quanto riguarda la squadra non mi sembra di essere appena arrivato perché mi hanno accolto benissimo, il gruppo per quello che vedo io è tanta roba, i ragazzi con me sono stati fantastici ed è una cosa che è difficile da trovare in delle squadre. No, sì sicuramente, quello che cerco di fare è dare una mano alla squadra con le mie qualità, penso di essere un ragazzo di qualità e cerco di mettere a disposizione della squadra per servire al meglio i miei compagni. Poi dopo delle partite riesce, delle partite no, però metto sempre il massimo e spero e credo di essere un valore aggiunto e penso mi abbiano preso per questo. La rabbia sicuramente ce n'è tanta perché comunque 5 partite senza vittoria per una squadra come la nostra e in una piazza come la nostra non è semplice. Per quanto riguarda le prestazioni io credo che molte volte si guardi troppo spesso il risultato, anche se alla fine è quello che conta, però io credo che in termini di prestazioni stiamo crescendo. Secondo me, dal mio punto di vista, stiamo facendo abbastanza bene in termini di prestazioni. È chiaro che quando i risultati non arrivano è sempre tutto in discussione e ognuno ha modo di parlare, però io penso che la strada presa sia quella giusta e che ci possa portare a trovare degli ottimi risultati. Io penso che sia un bene, così continuiamo a conoscerci, non dimentichiamoci che il mister è arrivato da poco, abbiamo tempo per provare delle nuove alternative, lui per farci mettere dentro dei concetti, quindi secondo me è una cosa buona, una cosa positiva, mettiamo dentro anche un po' di benzina questa settimana e poi dopo dobbiamo fare una tirata e cominciare a vincere e sicuramente i risultati arriveranno presto. Sicuramente, io penso che per l'organico che siamo in questa categoria non dobbiamo avere paura di nessuno, noi secondo me siamo un'ottima squadra che può giocarsela alla pari con tutti e vincere le partite tranquillamente.